Nella confezione Apple Quicks troverete la cover per iPhone, il kit per smontare l'iPhone, un pannello LED, quindi serve solo il vostro iPhone. Riponete ordinatamente il kit di Apple Quicks, la pinzetta in plastica, il girovide francese e il girovide a croce, lo spessore adesivo di spugna, la striscia di nastro biodesivo. Iniziate a svitare lo lupo in basso. Fate scorrere la cover posteriore. Noi abbiamo utilizzato un iPhone 4. Svitate quindi le viti che tengono la protezione dei connettori della batteria ed estraitela, magari aiutandovi con le pinzette in attenzione. Tenete le viti da parte, avendo cura di ricordare da dove le avete stratte. Sollevate i due connettori in alto, come vedete. Piegate la punta del filo rosso a forma di L, come vedete, e cercate di farlo passare attraverso i due connettori che avete staccato. Fate toccare il cavo rosso nel punto di collegamento. Tagliate un piccolo pezzo di bielesivo e fermate il cavetto rosso per mantenerlo fermo. A questo punto avvitate l'altro cavo nella vite in alto a destra. Riavitate la vite che ferma tutti i circuiti e la batteria e rimontate il lamierino con le 5 vite ordinatamente. Potete provare il collegamento, facendo toccare l'altro cavetto con l'antenna esterna. Potete quindi togliere il bielesivo sulla batteria, in modo da appoggiarci sopra il LED in modo definitivo. Prendete la cover dell'iPhone e montatela al posto della vostra originale. Avvitate le ultime due viti e voilà, il gioco è fatto! Grazie! 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 Grazie!